Bene, 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 iniziamo? Oggi conosceremo alcune interessanti caratteristiche di Telegram, in particolare parleremo dei bot. I bot sono dei mini programmini che possono essere inseriti all'interno delle chat di Telegram per aiutarci a fare tantissime cose. Vediamo 7 bot che possono cambiare il nostro modo di utilizzare Telegram. Il primo è TrackBot, un programmino semplicissimo che vi permette di tracciare le vostre spedizioni semplicemente aggiungendo nella chat il vostro numero di spedizione o semplicemente il codice a barre. In pochi secondi vi verranno fornite tutte le indicazioni del tracciamento. Il secondo bot è ToPDF, come dice il nome stesso ci permette di convertire qualunque file abbiamo in formato PDF. Il procedimento è semplicissimo, basta inviare dentro la chat qualunque file abbiamo e in automatico l'applicazione ce la restituirà in formato PDF. Il terzo bot che vorrei suggerirvi è PhotosetterBot. Questo bot vi permette di trascrivere qualunque testo abbiamo all'interno di un'immagine direttamente o in formato di un messaggio o in formato testo che può essere esportato direttamente dall'applicazione. Questo ad esempio è molto utile quando abbiamo un'immagine e vogliamo estrapolare da essa tutto il testo che contiene. Quarto, TranscriverBot. Questo bot ci permette di trascrivere in automatico ogni formato audio che ci viene inoltrato. Molto utile quando non possiamo ascoltare ad esempio una nota audio perché siamo in riunione, non siamo impegnati o semplicemente non abbiamo voglia di metterci il cellulare all'orecchio. In automatico l'applicazione trascriverà sotto forma di messaggio tutto il contenuto dell'audio da poterci leggere tranquillamente in un secondo momento. Ovviamente questo vale per qualsiasi nota audio che ci viene mandata sia su Telegram che su altre piattaforme. La procedura è molto semplice, basta inoltrare all'interno della chat del bot la nota audio e a tutto il resto penserà a lui. Siamo arrivati al quinto bot consigliato. Si chiama YouTube Audio Downloader. Questo bot ci permette in pochissimi secondi di ricercare un qualunque video presente su YouTube e scaricarlo in formato mp3. In questo modo potremo direttamente scaricarlo nell'applicazione e salvarlo nella nostra galleria per utilizzarlo offline in qualunque momento. Il sesto bot è TempMail. Oggi ci sono tantissimi siti che richiedono la nostra autenticazione chiedendoci la nostra mail. Questo bot ci viene in soccorso fornendoci una mail e una password temporanea della durata di 10 minuti da usare tranquillamente in queste occasioni. Il settimo è Amazon Search e Price. Questo bot si collega al video che ho fatto qualche giorno fa riguardo all'estensione Kipa per Chrome riferita agli acquisti su Amazon. Ci permette di ricercare qualunque prodotto all'interno dello stesso bot e vedere le oscillazioni di prezzo in automatico. Inoltre abbiamo la possibilità di cambiare facilmente il paese di provenienza del prodotto per vedere su quali Amazon internazionali è presente l'offerta migliore. Scaricare questi bot è molto semplice. Vi lascio giù i link in descrizione che si collegano in automatico alla vostra applicazione Telegram. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, mettete un bel like e al prossimo video!